Perfetto, e perdonatemi per il ritardo. Molto meglio ora, eh? Mi avete perdonato? Ok, oggi, oggi vi sorprendo con cinque novelle del Decameron, ok? Non tre, cinque. Ok? Allora, dai che ci divertiamo perché queste novelle, allora, ce ne sono alcune che mi piacciono di più, alcune che mi piacciono di meno, ma io vi prometto, vi prometto che l'ultimo è una delle mie preferite in assoluto. Anche perché a un certo punto nel corso di questa giornata, i ragazzi iniziano a battebeccare l'uno contro l'altro per avere la storia migliore su un certo tema. Quindi c'è proprio un'escalation, ok? Hai trovato qualche novella ambientata nella regione Marche? Sinceramente non l'ho nemmeno cercata. Però no, nessuna di quelle di oggi sarà ambientata nelle Marche, mi dispiace. Beh, su Wami di sicuro ricorderai queste novelle perché sono tutte della prima giornata. La prima novella è quella della Marchesa di Monferrato. Pronti a divertirci? Perfetto. Prima giornata, allora, partiamo da zero come sempre, lo faccio ogni volta. Il Decameron è un libro scritto durante il Medioevo, durante il lockdown. Questi ragazzi, dieci ragazzi, chiusi in quarantena per la peste. Grazie mille per l'abbonamento a Navarre Balaur what? Cosa? Beh, sono felice che sei tornato ad abbonarti. Ricordati che se scrivi abbonato in chat hai accesso al gruppo degli abbonati, dicevo. Il Decameron è un libro medievale scritto durante il lockdown per la peste. Questi dieci ragazzi durante la quarantena si riuniscono e fanno una gara. Ogni giorno, ognuno di loro dovrà raccontare una novella su un certo tema. E la prima giornata ha il tema libero. Ognuno può raccontare quello che preferisce raccontare in quel momento. Senza problemi, nessuna regola. Allora, questa è la quinta novella della prima giornata. La scrittrice, la novellista è Fiammetta. Ed è la storia della Marchesa di Monferrato. Stavo confondendo perché la storia inizia con il Marchese di Monferrato, suo marito. Che parte per la terza crociata in Terra Santa. Durante il Medioevo c'erano ogni tanto questi momenti in cui qualcuno veniva in mente del No, ma ci sono ancora i turchi a Gerusalemme. Quindi partivano, stavano via qualche anno per una grande crociata, per una grande guerra contro i turchi. Questa però, fanciulla, è abbastanza famosa. Tant'è vero che la voce arriva fino alle orecchie del re di Francia. Il re di Francia sente sempre parlare di questa Marchesa di Monferrato che deve essere talmente bella. Tutte ne parlano come se fosse la cosa più appetitosa del mondo. E di certo non dirà di no a re di Francia. E quindi il re, con una scusa, mentre parte per la terza crociata, perché potrebbe partecipare anche lui, ovviamente, guarda caso, guarda caso, lì lì, tra Parigi e Gerusalemme c'è Monferrato. Era lì sulla strada. Passa accidentalmente per Monferrato. E vuole presentarsi alla Marchesa. La Marchesa una mattina riceve la visita di questo gruppo di uomini che le lascia un proclama da parte del re dicendo domani, all'ora tal dei tali, per pranzo potenzialmente, arriverà il re di Francia a darle visita. Grazie a Cignappo per l'abbonamento. Ora, lei tutta emozionata, fa pulire tutta quanta la casa, prepara, si prepara perché deve arrivare il re. Il re arriva. E si fa accompagnare in casa e cerca di conoscere questa Marchesa. La Marchesa mostra che lei si è preparata delle tende nuove per l'arrivo del re, perché il re è molto importante. E ha fatto pulire tutte quante le sale, perché il re è molto importante. E il re è sconvolto, perché questa fanciulla è molto più bella di quanto si aspettasse. Lui si aspettava un 9 su 10, invece un 11 su 10. Oh mio Dio, questa fanciulla è la più bella che sia mai esistita. E inizia a cercare di provarci, inizia a cercare di toccare, ma comunque un re quindi se ne sta appena appena in disparte. Dopotutto suo marito non tornerà ancora per qualche anno, quindi di sicuro questa fanciulla vorrà cascare ai suoi piedi. Si arriva il momento del banchetto. Si siedono a tavola, molto distanti, da un lato c'è il re, dall'altro c'è la Marchesa di Monferrato. Si siedono, e arrivano le portate. E arriva questa specialità delle galline di Monferrato. Molto bene, assaggiano, molto buone. Poi seconda portata, arriva questa specialità delle galline di Monferrato. Il re inizia ad essere un po' confuso, ma va bene, è specialità del posto. Poi il terzo pasto sono, indovina un po', le galline di Monferrato. E il quarto, le galline di Monferrato. Il quinto, le galline di Monferrato, le galline di Monferrato. A un certo punto il re, un attimo confuso, rivolgendosi. Sto sentendo dei rumori. Il re un po' confuso, rivolgendosi, giustamente, alla Marchesa, chiede, ma scusa, ma qui fanno solo galline e neanche un gallo? La Marchesa, tutta tranquilla, risponde, sa, le galline, come le femmine, sono tutte uguali, per quanto possano essere vestiti o cucinate in modo molto differente. Questa è bellissima. È semplicemente la risposta perfetta. Il re intuisce quello che la fanciulla sta cercando di dire, si alza da tavola e se ne va via. è una di quelle battute tipiche medievali che qualcuno di voi adora queste storie, altri le odiano, ci può stare. Sto sentendo però un sacco di rumori, un attimo, e vado a controllare. Fondamentalmente, la risposta indica che, ok, io sarò anche la donna più bella del mondo, secondo te, ma una donna vale l'altra, alla fine. Non devi per forza farti tutta sta strada e venire da me e sprecare il tuo tempo perché devi avere a tutti i costi a me. Trovatene una tua. In breve è questo che gli sta dicendo. Che alla fine non vale un granché. Non serve andare a... Dove è preso quella lampada? Che cazzo è sto rumore? Che cazzo è sto rumore? Di ciò era una cosa terrificante, come se qualcuno stesse picchiando qualcosa in casa mia appena mi sono alzato smesso. Erano come pugni che sbattevano su un tavolo seguiti da biglie che cadevano ed arrivava da quella direzione dove non c'è niente in quella direzione se no in casa mia. Cioè di lì ho il vicino, di lì ho il vicino, di lì non c'è niente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sono preoccupato ma va bene. Ma dove hai preso quella lampada? Che significa? A cosa ti stai riferendo? Uguale a quella di casa mia. Che lampada? Ok, comunque, 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 comunque. Procediamo. Seconda novella. Iniziamo ad andare su novelle un pochetto più belle, un pochetto più piccanti, interessanti. Siamo ancora prima giornata, questa è la quarta novella raccontata da Dioneo. Il titolo sarebbe Il monaco e l'abate. Voi sapete che tutte le volte che Boccaccio ci infila un monaco sta per succedere qualcosa di assurdo. Linda che mi chiede puoi raccontare quella di puoi finire di raccontare quella di io ho finito di raccontare quella di prima era è così che finisce con il re che se ne va. Non stavo finendo una frase. Vabbè, comunque forse la stavo finendo non lo so aiuto Perché mi state facendo così tante domande? La rotta di scorta non ti preoccupare è che Boccaccio come tutti i medievali è fissato col sesso. Ora, l'ultima volta che ho raccontato delle novelle ce n'era una in cui i preti si stavano inculando scambiandosi bambini e soldi. Di nuovo rumore di prima. Che cos'è? Comunque a regular player mi dice perché nella mensola a sinistra hai sottoprodotti vari e sopra gli spiriti con tanto di cappello di Michael Jackson? Mi distraete! Mi distraete! Che è sto rumore? Vi giuro sono devastato mi sta rovinando la live questo rumore già vi giuro non capisco cosa possa essere beh prendite delle cuffie un coltello non lo so c'è qualcosa che sta nelle case di tutti c'è no che il frigorifero ogni tanto si mette a fare dei rumori assurdi c'è qualcosa che sta nelle case di tutti quindi di sicuro anche io in casa ogni tanto può fare a caso c'è io per un attimo ho pensato di aver chiuso il gatto in qualche armadio ma ma non c'è una lavatrice qua abbiamo la lavanderia a parte se ti ricordi che non c'è acqua potabile in questa casa quindi tutte le cose legate all'acqua in genere stanno fuori perché hanno la loro cisterna a parte con il loro purificatore boh grazie a Lane Jack per l'abbonamento capirò mai procediamo dai allora ma stiamo scherzando che cazzo sta succedendo in questa allora il microfono è direzionale quindi sentite solamente me ma sappiate che qualcosa mi ha appena ululato fuori dalla porta stiamo calmi ok stiamo calmi di nuovo che cosa sei poi gentilmente chiedere scusa alla live per il fatto che continui a ululare e mi distrai ci sono già abbastanza rumori in casa senza aggiungere quelli fuori casa che ne dici? perché stai guardando fuori? perché guardi fuori spaventato? ok siamo pronti? ce la facciamo? posso iniziarla? perfetto allora prima giornata prima giornata quarta novella racconta Dioneo il monaco l'abate siamo in un monastero in lunigiana non so dove sia la lunigiana ragazzi se scoprite che è nelle marche mi avete risolto vado a cercare avete ragione io ho a disposizione internet non vado a cercare la lunigiana la lunigiana dov'è? ed è in a metà tra la Liguria e la Toscana mi spiace ragazzi niente marche ok allora siamo in questo monast... siamo in questo monastero che si trova in lunigiana e in questo monastero vive un monaco bellissimo questo monaco è di una bellezza impressionante ha subito digiuni veglia eppure resta sempre bello sta tutto il giorno sulle ginocchia a pregare lavora la terra e resta sempre bellissimo una notte non riesce a dormire passa la notte nella sua cella perché vi ricordo che i frati dormono in cella guarda il soffitto non riesce a prendere sonno non ce la fa quindi si alza in piena notte esce dal monastero si fa una passeggiata all'aria fresca e vicino alla chiesa del monastero incontra una ragazza un'inquietante ragazza che sta raccogliendo delle erbe notturne i due iniziano a parlare chiacchierano un pochettino la ragazza inizia a prendersi bene con il ragazzo il ragazzo anche se è un monaco inizia a trovarsi bene con la ragazza e decide di portarla in cella attraversano tutto il monastero mano nella mano parlando sottovoce devono svegliare tutti quanti gli altri frati che stanno dormendo nelle altre celle attraversano tutto quanto il monastero sempre silenziosi in punta di piedi entrano all'interno della loro cella e finalmente iniziano a darci dentro e a quel punto iniziano a divertirsi un sacco ora all'interno della cella iniziano a fare un po' troppo rumore perché stanno facendo troppe cose troppo in fretta sono troppo prese dall'eccitazione sono troppo giovani per non farsi prendere e quindi con il loro far chiasso svegliano la bate la bate la bate purtroppo che sta a capo di tutti quanti i monaci si sveglia a causa del rumore inizia a seguire il rumore attraverso i corridoi perché sente continuamente questo e continua a cercare di capire da dove arrivi finché a un certo punto finalmente non inizia a intuire che c'è questa porta di questo monaco da cui arriva questo suono e prova ad appoggiare l'orecchio lo sente prova a guardare attraverso la serratura ma non riesce a vedere prova a guardare in qualche pertugio tra il legno ma non riesce a vedere ormai il rumore si è fermato lui ci ragiona un attimo e dice guarda se sta succedendo qualcosa con qualche monaco la cosa giusta da fare è di alzarmi tornare nella mia camera da letto tornare nella mia cella e aspettare che finalmente questo monaco esca io me ne sto lì in piedi aspetto che esca sto in camera mia e quando finalmente esce affrontiamo la questione ok? e la risolviamo in realtà dall'altro lato della serratura mentre si stavano divertendo tanto i due ragazzi a un certo punto il monaco aveva sentito lo scalpittio dei piedini dell'abate che si muovevano per il corridoio e quindi si erano fermati lui era sceso dal letto ed era andato anche lui alla porta per vedere chi fosse a venire a spiare e tramite un piccolo pertugio della porta aveva visto perfettamente l'abate che appoggiava l'orecchio contro la porta cercando di sentire qualcosa quindi passa qualche minuto finiscono di consumare il loro bel rapporto e il monaco decide di lasciare la ragazza la fanciulla la lascia sul letto dicendole guarda io esco un attimo torno presto ok? io esco controllo che ci sia via libera e poi torno da te ok? tu non ti muovere non uscire non farti scoprire quindi il monaco chiude a chiave la sua cella esce dalla cella e va dall'abate va dall'abate perché sa perfettamente che è sveglio va a bussare alla sua porta oh sono molto felice di trovarla sveglio signora abate l'abate tutto tranquillo sì c'è qualcosa che mi vuoi dire figliuolo? è il figliuolo ovviamente che risponde con un guarda la regola è questa io ti devo lasciare la mia chiave se voglio uscire bene io voglio uscire per andare a spaccare legna perché non riesco a dormire quindi chi ne dice di tenere la chiave come di consueto e io vado a fare un po' di legna poi tornerò più tardi l'abate lo licenzia glielo permette tranquillamente ok vai pure non ti preoccupare e come da regolamento io tengo la chiave il ragazzo se ne esce va nel bosco a spaccare legna e l'abate corre subito tutta entusiasta alla stanza della fanciulla prima di infilare la chiave ci ragiona un attimo ha davanti a sé una possibilità incredibile lui potrebbe svegliare tutti i monaci e davanti a tutti i monaci infilare la chiave nella serratura aprirla cogliere la ragazza sul fatto e a quel punto dimostrare la colpevolezza di quello stupido monaco però ci ragiona un attimo e pensa ok ma se io svergogno una ragazza in questo modo ma io non l'ho vista la ragazza metti il caso che questa ragazza fosse figlia di qualcuno figlia di qualcuno di potente e io mi faccio la figuraccia e magari mi buttano fuori dal monastero perché ho svergognato la ragazza sbagliata ci ragiona un pochettino e decide che no ok prima dobbiamo vedere chi è la ragazza e poi decidiamo quanto chiasso fare apre la porta entra e trova la ragazza terrorizzata che si copre con le coperte e inizia a piangere perché è stata scoperta e si fa prendere malissimo dalla situazione e non vuole che suo padre sappia che lei è lì lei ha paura lei non ce la fa piange 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 alla fine è una contadinella non è nessuno di importante però è tanto caruccia è tanto carina e l'abate si siede accanto a lei e inizia a massaggiarla a coccolarla a cercare di consolarla ma tranquilla io non ti farò del male ma non ti faccio niente ma guarda si è commesso un errore però e inizia ad allungare sempre di più le mani finché a un certo punto non iniziano a toccarsi a vicenda e man mano che si toccano a vicenda iniziano a divertirsi a letto e man mano che iniziano a divertirsi a letto ecco che di nuovo all'interno del corridoio inizia a esserci il suono il monaco che aveva solo fatto finta di voler lasciare l'edificio ritorna alla sua cella appoggia l'orecchio e sente che l'abate si sta divertendo ora il monaco attende la mattina sapendo che l'abate vorrà coglierlo in fallo e aprire la porta davanti a tutti aspetta la mattina e quando l'abate esce dalla sua cella ecco che il monaco dice oh signor abate mi dispiace io mi sento molto in colpa per tutto quello che è successo l'abate inizia a gridare vedi sei uno svergognato guarda cosa hai fatto non si fanno queste cose e il monaco con tutta la tranquillità del mondo risponde con un ma è che io sono da poco tempo nell'ordine di San Benedetto io non so ancora tutte le regole io per esempio non lo sapevo che dovevamo scambiarcele le donne ma adesso che mi avete mostrato che vanno condivise allora d'ora in poi le compartirò sempre i due decidono di fare un patto di silenzio e nessuno verrà mai più a romperle le palle per questa cosa e i due continueranno ad avere i loro rapporti tranquilli i tre continueranno ad avere i loro rapporti tranquilli grazie a Danford Hub che mi avvisa che è regole regole perdonami però che bello che me ne è corretta solo una vuol dire che è andata bene dai regole ah che punchline ragazzi nel medioevo si ragazzi ma c'è un motivo se io vi racconto il Decameron lasciatemi dare un'altra occhiata al rumore di prima e torno subito e sono qua Edver che chiede cackled capiamo non ho solo rapporti a tre stavolta ma sappiate che il cackled c'è in boccaccio ok mamma mia grazie a Steven grazie mille grazie per l'abbonamento oh what come tell me what ok ok wait is it italian cheese no canarian cheese what the hell is that these are spices mi ha portato un pezzo di formaggio ha un sapore stranissimo è buono ma è un sacco strano no non è peperoncino sono delle spezie tipo tipo lanice no ma non è anice this tiny not bad yep it's one of the best cheeses from the island hello people leaves a strange taste like blueberries and stuff it's just what it lasts on the sound I don't know I don't know don't tell me blue cheese for that I will kill you oh they are complimenting your tattoos ringrazio ringrazio ah quello era coco per quelli che lo chiedono decisamente meglio del caso marzo ragazzi allora procediamo è stato così terribile quel lag qui non mi segnala nulla nessun calo però lui mi ha messo in bocca il formaggio adesso ho bisogno di acqua per sì quello è coco ok perfetto ah oh mio dio quante lingue sono la radio della guerra mi sta mandando un saluto in un sacco di lingue ah no non il formaggio si chiama coco lui si chiama coco allora prossima novella terza vi ricordo che ve ne racconto 5 quindi siamo alla terza allora ancora prima giornata siamo alla settima novella questa è una novella di filostrato ci stiamo vicinando la mia preferita poi capirete perché e il titolo è bergamino ah c'era una volta Can Grande della Scala che era signore di Verona ed era un uomo ricco ricchissimo era potente tutti lo conoscevano era talmente potente era talmente grande era talmente incredibile che Can Grande della Scala veniva atteso da tutti e se Can Grande della Scala voleva organizzare una festa tutti volevano partecipare e infatti successe organizzò una festa organizzò una festa tutti corsero per voler partecipare e ora passiamo al tempo presente questa festa è un po' particolare perché nonostante un sacco di cortigiani vengano a partecipare un sacco di artisti vengano a partecipare un sacco di persone importanti siano invitate e tutte quante arrivino a Verona da un giorno all'altro puff festa annullata ma come? ma come? Can Grande ha cambiato idea quindi risarcisce alcuni per il viaggio i più ricchi licenzia praticamente tutti quelli che sono stati coinvolti per il cibo per la festa per gli spettacoli e tutti se ne vanno tranne Bergamino tranne Bergamino Bergamino non la sopporta questa cosa Bergamino non la può accettare Bergamino non la può accettare perché in questa situazione lui si è fatto tanta strada per poter arrivare fin lì poi lui è un raccontastorie un novellatore è molto importante e quindi una volta che si è pagato l'albergo per stare a Verona decide che adesso vuole stare a Verona ed è convinto che aspettando aspettando prima o poi Can Grande farà qualcosa prima o poi la rifarà sta festa e così aspetta e aspetta passano i giorni passa le giornate a Verona e inizia a spendere un po' troppo in attesa che succeda qualcosa perché l'albergo mica è gratis lui pensa che Can Grande abbia deciso abbia cambiato idea sulla festa perché c'è questa cosa un po' tra i ricchi di pensare che i soldi in feste sono sprecati e quindi lui continua ad aspettare a un certo punto finisce i soldi e deve pagare l'albergatore con uno dei suoi vestiti passa l'altro tempo e deve pagarlo con un altro dei suoi vestiti ormai gli resta praticamente solo ciò che indossa ed è già pronto a vendere pure quello quando in giro per Verona all'interno di una locanda incontra Can Grande della scala in persona incontra Can Grande che sta mangiando tutto mogio-mogio ma l'inconico Bergamino quindi si avvicina al suo tavolo e chiede cosa succede perché siete così triste Can Grande non vuole rispondere no è solo un po' triste è un po' depresso e allora Bergamino decide di raccontargli una storia si siede al tavolo davanti a lui gli dice bene allora io ti racconto la storia di Primasso Primasso era ricchissimo ricchissimo e famosissimo ma negli ultimi tempi era diventato un pochetto più povero era iniziato ad andare male tant'è vero che si era dovuto trasferire a Parigi che era una città tanto lontana per lui sperando di riottenere un po' di fortuna e Primasso nonostante fosse tanto famoso e grande non aveva mai sentito parlare dell'abate di Cluny e a Parigi tutti parlavano dell'abate di Cluny perché era il prelato più ricco si diceva dopo il Papa tutti gli dicevano pensa l'abate di Cluny è talmente ricco talmente potente che si può permettere di offrire qualcosa a chiunque vada a chiederglielo pensate l'abate di Cluny è talmente potente che non c'è una singola persona a cui lui abbia mai detto di no pensate l'abate di Cluny è talmente ricco che ogni giorno le persone possono arrivare alla sua abbazia chiedere anche solo pane e acqua poi riceveranno vino e caldarroste cavoli cavoli Primasso decide che lo vuole incontrare questo tizio lo vuole incontrare a tutti i costi l'abbazia di Cluny è a 6 miglia da Parigi e quindi il viaggio è lungo dura diverse ore e per il viaggio per ogni venienza porta con sé tre pani tre pani che si mette sotto la giacca perché tanto l'acqua alla fine la si trova per strada affronta questo lunghissimo viaggio arriva finalmente all'abbazia e l'abbazia trova delle enormi gigantesche cucine sale e sale di cucine attraverso l'abbazia ci sono sale con razzi ci sono tantissimi spazi molto grandi aperti con tavole con mille ritratti con incredibili abiti esposti oh mio dio una cosa incredibile sembra davvero l'uomo più ricco dopo il papa e mentre sta visitando l'abbazia il siniscalco arriva suona la campana dicendo che è ora di pranzo tutte devono andare al rifettorio è ora di pranzo è il momento in cui la batte di pluni l'abbiamo 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 Grazie. Sto controllando se il mio microfono lo sente. Sì. Sì, si sente. Non lo so che cos'è. Avrei una nutria nel muro, ma magari ci fossero le nutrie. Non lo so, c'è un rumore che continua a essere straforte. Vabbè, allora procediamo. Ah, chi ero con la targa di YouTube? Io non lo so cosa sta succedendo, ok? Allora. Come stavo dicendo? Grandi sali, grande cucina e tutto il resto. Si organizza finalmente il pranzo e il siniscalco dell'abate avvisa tutti quanti che ora di pranzo. Quando avvisa tutti quanti, tutti si siedono al refettorio, tutti sono pronti. L'avete sentito pure voi? Linda che chiede cos'è un siniscalco. La risposta è praticamente il siniscalco è quella persona che vede all'interno di qualsiasi film che annuncia che il re sta facendo questa cosa. È praticamente una sorta di gestore di corte. Non so nemmeno come definirlo. Aiutatemi voi. E appunto qui c'è anche la battuta del fatto che lui è un abate, però ha un siniscalco come se fosse un re. Ok. Comunque grazie per i beats, Lubra. Davvero. Grazie mille. Ok. Mi sembra che ci sia di nuovo silenzio. Io non so cosa stia succedendo. Mi dispiace che... È la prima volta che una mia novella viene interrotta così. Tutti si riuniscono attorno al refettorio... Adesso arriva il rumore. Tutti si riuniscono attorno al refettorio... E il siniscalco annuncia le regole. Ce n'è una sola. Non si deve mangiare finché l'abate non ha iniziato a mangiare. Oh, ok. Ok, 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 ok. Tutti quanti si vanno a sedere, tutti quanti si calmano, tutti quanti sono in attesa che arrivi l'abate. E proprio lì, seduto di fronte alla porta da cui entrerà l'abate, c'è il nostro caro Primasso, che sta aspettando con gioia. L'abate finalmente entra. L'abate entra, vede Primasso e fa... Oh, un povero, che schifo! E va a chiudersi in camera sua. Non vuole più uscire. Tutti quanti che bussano alla sua porta, ma signor abate... Per favore, stanno tutti aspettando lei per mangiare. No, c'è un povero, che schifo! Lo mandiamo via? No, non voglio che lo mandate via. Perché poi sembra brutto. Ok, va bene, va bene. Aspettano un po' di tempo. Passa qualche ora, e dopo qualche ora, tornano dall'abate a chiedere... Vuole uscire adesso, signor abate, per favore? No, no, è ancora lì il povero! I servici andano subito a controllare se il povero sia ancora lì. E vedono Primasso che, a forza ad aspettare cibo, a un certo punto è iniziato a togliersi uno dei panini dalla tasca e aveva iniziato a mangiocchiarselo un pochettino, perché è un po' di ore che aspetta. Beh, si aspetta ancora un po' di tempo, passa un pochetto di tempo, senza troppa fretta, e di nuovo, di nuovo, il nostro poverissimo Primasso, mentre sta aspettando, con la massima calma, di poter mangiare, inizia a tirar fuori un altro panino. Un altro. E l'abate continua a chiedere, se ne è andato il povero? No, il povero è ancora lì. E l'abate, a un certo punto, inizia a realizzare che... Ma che novità mi è venuta oggi nell'anima? Che avarizia? Quale sdegno? Per quale motivo? Io ho sempre dato da mangiare a tutti, e adesso ne arriva uno, e solo perché è povero dico di no. Ma non è possibile. Io ho detto di sì a ricchi, ho detto di sì a poveri, ho detto di sì a gente che mi ha rubato un sacco di cibo. Beh, quel che succede è che il povero abate decide di farsi perdonare, scende da Primasso, e non solo gli offre da mangiare, ma gli offre anche dei cavalli, abiti nuovi, un sacco di soldi e un sacco di onori. Finita questa storia... Beh... Beh, Can Grande inizia a guardare Bergamino. Bergamino inizia a guardare Can Grande. Dopo un po' che i due si guardano, Can Grande realizza e dice, ok, va bene. E regala Bergamino una scorta di cavalli, di abati, di abiti e, scusate, abate e abiti. Ragazzi, perché mi state tutti quanti dicendo di girarmi? Non c'è niente. Che sta succedendo, ragazzi? Perché? Perché state facendo di tutto per interrompere questa cosa? Perché? Vi impegnate per interrompere i miei racconti? Comunque, comunque, sappiate che io, per sapere se c'è una figura dietro di me, non ho bisogno di voltarmi dal momento in cui ho davanti a me due schermi che mostrano il mio faccione. Quindi, ragazzi, gli scherzi, organizzateli bene, perché io mi vedo, non ho bisogno di voltarmi. Comunque, fondamentalmente, che dovrebbe significare questa storia? Che che è successo? Che, così come l'abate di Cluny, per mantenere il fatto di essere buono e di essere magnanimo, deve continuare a comportarsi in modo da essere buono e magnanimo, anche Can Grande, se vuole mantenere la sua buona reputazione, deve continuare a fare questa cosa. Tutte devono essere buoni. Tutti devono mantenersi positivi e tutti devono continuare a organizzare feste se vogliono mantenere la loro reputazione, perché se tu sei ricco e tutti ti odiano, se tu invece sei ricco e la tua ricchezza la condividi con gli altri, ti puoi assicurare che tutti parleranno sempre bene di te. Ragazzi, io mi vendicherò contro di voi un giorno, ok? Mi vendicherò contro di voi. E non serve allungare la live, ho ancora due novelle da raccontare. Ragazzi, ragazzi! Poi la rotta di scorta che dice, ma io sono povero, non posso condividere nulla. Se ci fai caso, tutte le persone coinvolte in questa storia sono molto ricche. Ora, è qui che la gente inizia a discutere. È qui che tutti iniziano a discutere. Perché Lauretta, che racconta la novella successiva, inizia a dire, no, 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 sta storia non mi piace. Sta storia non mi piace, perché sinceramente io ne ho sentita una che racconta la stessa storia, ma è più breve e funziona meglio. Va bene allora, Lauretta, vai tu. E quindi ecco questa l'ottava novella della prima giornata, subito successiva. La storia inizia con Erminio de Grimaldi, che è ricchissimo, un uomo ricchissimo di Genova. E nonostante sia così ricco, è anche estremamente avaro. Tant'è vero che lui ritiene che il lusso sia un difetto. Non spende mai un centesimo per nessuno, infatti è sempre più ricco. Succede un giorno, che passi per la città di Genova, Guglielmo Borsieri. Guglielmo Borsieri è visto molto bene da tutti quanti, e tutti i genovesi lo accolgono di cuore, gli vogliono bene. Guglielmo Borsieri è un uomo tanto importante che persino Erminio dice, vabbè, sarò avaro quanto voglio, ma devo accoglierlo sto tizio in casa mia. Così gli apre la porta di casa e lo porta a visitare casa sua. Guarda, questa è la mia parete degli arazzi, questa è la mia parete delle vetrate, questa è la mia parete dei basi antichi, questa è la mia parete... e pian piano attraversa tutte quante le sale della sua grande villa, mostrando a Guglielmo Borsieri quanto lui sia ricco, quanto lui sia diventato ricco, quanto lui sia stato bravo a risparmiare. Posso avere un bicchiere d'acqua? No! E continua a parlare di quanto i tappeti che stanno a terra e di quanto le statue, i busti presenti. Ma non è che potrà utilizzare il... No! E poi gli indica tutte quante queste incredibili marmi di Carrara che lui ha utilizzato. E pian piano che va avanti, finisce il giro della casa, finché non si arriva all'atrio, le atrio d'entrata dove si devono salutare. Ma a questo punto, Erminio Lavaro dice Ma guarda, io pensavo di dipingere qualcosa in questo salone. Vorrei una cosa nuova che nessuno ha mai visto. Tu, Guglielmo Borsieri, hai qualche idea da consigliarmi? Guglielmo c'è ragione e dice Guarda, io non credo che ci sia qualcosa che nessuno ha mai visto. Semmai, semmai, potreste dipingere una cosa che voi non avete mai visto, una cosa che io so che voi probabilmente non vedrete mai. E il ricco, avaro, Erminio chiede Ok, qual è questa cosa che io non vedrò mai? Guarda, se volete, potete prendere questa grandissima parete e ci potete dipingere la cortesia. E a quel punto, Guglielmo se ne va via. Da quel momento in poi, l'avaro, Erminio diventa finalmente un gentiluomo e inizia a voler bene a tutti quanti, a trattare tutti quanti in modo equo. Ora, da un lato è molto divertente il fatto che tutto questo accada nel Medioevo, però la storia è abbastanza banale. È questa. È anche divertente che accada a Genova. Genova è uno stereotipo fantastico. Ma questa novella io ve la racconto per due motivi. Il primo è che, ve le devo raccontare tutte le novelle prima o poi, e di mezzo ce ne sono alcune come questa che non sono molto interessanti. Io sono partito con quelle più belle, ragazzi. Non vi capiterà molto spesso di sentire novelle poi così belle. Io sono partito con Andreuccio da Perugia, mi pare, non mi ricordo. Roba che comunque è interessante. Ora. Ora. Quando Lauretta racconta queste storie, c'è un'altra delle raccontastorie, Elissa che dice, Elissa che dice, no, questa storia fa cagare. Questa storia fa cagare. Io ne ho una che è ancora più corta e racconta ancora meglio la questione. Quindi, ragazzi, prima giornata, nona novella, scritta da Elissa, raccontata da Elissa. Scritta da Boccaccio, ovviamente, che finge di essere Elissa. Allora. C'era una volta una gentildonna di Guascugna. e questa gentildonna di Guascugna aveva deciso di migrare in Terra Santa e avere una bellissima esperienza a Gerusalemme, nelle terre di Gesù Cristo. Ora, i viaggi per andare in Terra Santa erano viaggi lunghissimi, cose che impiegavano mesi e mesi, quindi capitava sempre che tu dovessi avere delle tappe, dei punti in cui fermarti sulla strada. La gentildonna di Guascugna dovette fermarsi sull'isola di Cipro e appena scesa dalla nave iniziò a ricevere catcalling. Tutti che le gridavano aò cercando di attirare la sua attenzione, facendole notare quanto lei fosse bella e quanto loro volessero fare delle belle cose con lei, cercando sempre di più di farla sentire in imbarazzo. Lei sempre di più, sempre di più inizia a sentirsi a disagio finché non inizia una direttura a insultarla perché lei non gliela dà. Eh, cos'è? ce l'hai di legno, eh? Eh, cos'è? Sei una lurida! E iniziano a dire delle parole. Delle parole che la colpiscono dritto al cuore e iniziano a insistere con queste brutte parole. Si sente sempre di più aggredita. Tanto è vero che a un certo punto decide che vuole denunciare questa cosa al re di Cipro. Il re di Cipro era Guido dall'Usignano. Era il primo re di Cipro. E quando lei vuole fare questa denuncia ecco che tutti quanti l'avvisano. non andare da lui. Non andare da lui. Non denunciare questa cosa. Perché se tu vai da lui e gli dici che hai subito questa cosa da parte di questi stronzi lui ti risponderà sicuramente una cosa del tipo oh, hanno fatto bene. Sta nella larga. Sta nella larga da quel re perché è terribile. beh, tutto sommato è come se a Cipro fosse colpa sua se tutti si comportassero se tutti si comportano così alla fine la colpa è anche del re che abbassa gli standard di qualità eccetera. lei decide di andare allo stesso dal re per esporre lo stesso denuncia. Quindi la gentildonna arriva dal re si inchina a lui e dice re di Cipro io ho appena conosciuto la vostra bellissima isola e non sono qui per denunciare chi mi ha insultata ma per porle una domanda e il re è tutto orgoglioso a dire bene fatemi la vostra domanda maestà io non voglio in tua presenza chiedere vendetta per l'offesa ricevuta. Ti prego ti prego insegnami insegnami come tu sopporti l'offese che ricevi perché imparando da te magari posso imparare a sopportare la mia. Ti donerei volentieri la mia offesa se potessi sapendo che tu sappia sopportarle così bene. Insomma come resistete quando vi dicono che siete un avaro figlio di puttana senza valore che governa col culo un paese di merda e ha pure l'ardire di mostrare la faccia da coglione che si ritrova in pubblico e che meriterebbe solo un paio di un palo spinato in culo e due ceffoni ben assestati bastardo di merda. Insomma come resistite quando vi dicono queste cose? Insegnatemi per favore. Medioevo signore e signori medioevo medioevo questa questa è bellissima io la adoro ok? Io la adoro penso che sia il miglior modo di finire una novella mamma mia capisco da Dark che tu puoi inventarti insulti peggiori ma non dimenticare che è illegale insultare il re lei non l'ha mica insultato ora la storia finisce con lui che semplicemente capisce la posizione in cui si trova e inizia a comportarsi in modo un pochetto più corretto e a non permettere a nessuno di comportarsi in modo così scorretto nei confronti delle fanciulle il re di cipro si chiamava Guglielmo aspetta ce l'ho qua perfetto Guido da Lusignano poi non so perché non so perché in boccaccio praticamente tutti in Europa abbiano nomi italianissimi c'è possibile che in Francia la gente si chiami Primasso non lo so se vi ricordate però è stato molto attento ad avere nomi diversi quando aveva una storia inventata in Egitto la storia inventata in Turchia però boh no a quanto pare a cipro invece Guido da Lusignano ma non conoscevo solo quei nomi perché a voi li utilizzavi nomi corretti cioè Melchisedec davvero mi vai a pescare Melchisedec per l'Egitto però Primasso si era trasferito magari all'italiano vero 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 come c'era gente che si chiamava Mirko oh mio dio comunque si io adoro questo finale lo adoro e credo che sia il momento di creare di farvi mandarvi via cacciarvi da questo canale con un bel raid che ne dite spero che vi sia impiaciuto questi momenti di follia in cui cercavo disperatamente di scoprire quale fosse quel rumore credo che non lo saprò mai vi giuro ero convinto ci fosse un animale in casa o qualcosa di grosso comunque e quindi a che facciamo il raid ragazzi vi ho raccontato 5 novelle abbiamo superato il limite massimo mai raggiunto di solito sono 3 e liberi oltre sono costretto perché hanno pagato i 3000 bit per guidare il raid perfetto liberi oltre vi mando da loro comportatevi bene credo di non conoscere nessuna delle persone che si trova su quel canale in questo momento ma fate da bene fate bene fate bene 3 novelle da 5 minuti ci credo ma io sono qui da più di un'ora quasi un'ora e mezza che sono qui dai 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 e si parte con il raid ciao fate i bravi e comportatevi bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti